Ben trovati amici del Centrometrio Italiano. Nuovo peggioramento in vista del weekend con il ritorno del maltempo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 24 novembre. Al mattino acquazzoni e temporali al nord e sul versante tirrenico centrale con fenomeni anche intensi. Neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio continua a piovere al nord-est e sulle regioni centrali. Tempo in peggioramento anche sulla Sicilia con precipitazioni sparse. In serate in nottata il maltempo si trasferisce al sud con acquazzoni e temporali localmente intensi su Campania e Sicilia. Fenomeni di esaurimento al centro nord ma con molte nubi. Per quello che riguarda le temperature sia le minime che le massime rimarranno stabili o tenderanno ad aumentare. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.